Una fondamentale partita attende i paladini che questa sera al Palasica e gli Archivi, palla a due alle ore 20 e 30, ospiteranno un'ambridisi del tutto rinnovata e vogliosa di riscatto. È una partita fondamentale per noi per proseguire il nostro cammino. Abbiamo avuto un momento di stop a Varese e così come siamo stati bravi a riprendere subito il cammino con Cagiantep vogliamo riprendere il cammino anche il campionato. Aspetta una partita tosta contro una squadra che ha voglia di riscattarsi, visto che ha cambiato allenatore e quindi avranno nuove motivazioni, ma noi ci faremo trovare pronti. Sarà una partita particolare perché cambiando allenatore probabilmente tante cose il loro nuovo allenatore porterà dei cambiamenti per cui possiamo aspettarci sicuramente qualche sorpresa. Detto ciò sappiamo che hanno comunque un buon roster, fatto di buona individualità e noi dovremmo essere, indipendentemente poi da quello che proporrà Brindisi, dovremmo avere noi il giusto atteggiamento per fare una partita importante. I bianco-azzurri, nell'undicesima giornata, vogliono tornare al successo in campionato dopo la sconfitta di Varese e dare continuità dopo la vittoria di Coppa contro Cagiantep, potendo sfruttare il talento del recuperato playmaker Eric Maynor. I ragazzi stanno bene, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Eric ha fatto un programma a parte, però sarà sicuramente dalla partita per cui dovremmo essere tutti al completo.